Tutto è successo qualche anno fa. C'è stata la crisi economica mondiale peggiore della storia. GOOOOOO! GOOOOOO! Mamma rogarmene! Io, mamma e papà abbiamo promesso a Paschali che tu, quando ti saresti ripreso dal coma, ti saresti sposato, Ling! Niente meno, patria. E non erano meglio gli anni che la condizionale, chissù pure. Oggi quando erano ancora presi i bambulele, vedi i bambulele e pagliate! Vittorio, io ti ho aspettato tanto, poi... Capisco benissimo. Vittorio, le posso proporre una cosa? Perché non vi prendete il mio negozio a garanzia? Capisce. E lei chi è? È la tua fidanzata? No te so, io sia un fermiero che mi segue per la riabilitazione. Hanno preteso che noi non producissimo più niente E' vietato proprio dalla legge e tutto arriva dall'estero. E' arrivato il momento di riproporre il vecchio e sano contrabbando di una morte. Si drogano! Ma cosa fanno i guaglioni mo' a pannicio lì? La gente vede a noi vestiti così, stanno più tranquilli. Geniale! Faremo come il proibizionismo degli anni venti! E' andato, ma cosa fanno? E' ci fatti pigliare la mano! Capù! No, papà! C'è vero! E sta tenendo la sacca, non ti fa prendere nessuno, va? No! C'è vero! C'è vero!